L'Antico Testamento 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 venuta a dimorare dentro di noi, cosa che non era fatto così nell'Antico Testamento. Insomma, se non si distingue la diversità dell'Antico e del Nuovo Testamento, si farà una grande confusione e si perderanno le grandissime benedizioni che Dio Padre ci ha già dato e sono in Cristo Gesù e che si manifestano, ovviamente per l'azione dello Spirito Santo, che dimora nel credente, ha detto Gesù e sarà con voi e sarà in voi.